Come è annunciato nei mesi scorsi, nuovo rimpasto per la sua giunta, il segretario provinciale del PD dice con questo atto la provincia esala il suo ultimo respiro. Sì, come avevo annunciato già all'inizio della legislatura ci sarebbe stata una rotazione complessiva e finale di tutti gli assessori, divisa in varie tappe. Abbiamo iniziato nel periodo di dicembre, ovviamente ce n'è stata un'altra poi successivamente, così come era nelle cose. Adesso usciranno quattro assessori e gli ultimi tre usciranno a metà settembre. Era una cosa diciamo annunciata, giusta secondo me perché è un'occasione di crescita della classe dirigente, è un'occasione di far capire a tutti che non c'è un posto fisso legato alla politica ma costantemente bisogna dare a tanti l'opportunità di esprimere le proprie capacità e la propria professionalità. Oltretutto ci sono anche tante persone che si sono candidate nella lista e sono i primi di non eletti mediante il meccanismo della surroga che è previsto opposta per legge, proprio per dare l'opportunità a persone che magari rappresentano delle comunità territoriali non rappresentate in giunta nel governo della provincia e che quindi tutta la provincia, tutto il territorio salernitano poco alla volta sia rappresentato da consiglieri provinciali e da assessori. È un modo per rendere la provincia più partecipata. Rispetto a quello che dice questo giovanotto di Landolfi, poverino, insomma io lo capisco, non lavora neanche, insomma deve cercare in qualche maniera di darsi uno spazio politico ma insomma non è colpa sua e con lui non ce l'ho. Più che altro c'è un problema complessivo, il PD o meglio il padrone del PD De Luca non coglie occasione per alzare il livello di polemica istituzionale è veramente incredibile e su questo sono assenti. Per esempio qualche giorno fa il presidente degli industriali ha detto basta liti, basta polemiche e poi voglio dire vediamo chi le fa le polemiche e probabilmente uno dovrebbe fare anche qualche intervento in questa materia. Mi sembra insomma che è una provincia un po' bloccata dove c'è una classe dirigente asservita a un sistema di potere che è quello che ha sfasciato la nostra provincia, riempendola di debiti, la nostra provincia intesa come territorio, si intende, ma anche l'ente provincia abbiamo visto tutti i guai che l'ha giunta, non Villani, l'ha giunta con assessore al bilancio Giuliano, uomo fidato di De Luca perché adesso è comodo scaricare tutto su Villani, in realtà era un sistema politico, quello del PD, che si basava sul tasse spendi, sull'indebitamento sui debiti fuori bilancio che noi adesso siamo purtroppo, siamo cosetti a pagare togliendo servizi ai cittadini e su un sistema che si basava sugli enti sovracomunali, l'Asi, l'Acquedotto, il CSTP, l'Aeroporto che finanziavano le attività ludiche e clienterali del sindaco di Salerno sulla città. Vicenda CSTP, qual è il futuro per i lavoratori e per l'azienda? Ecco, noi qui la situazione è drammatica, è drammatica perché innanzitutto il governo nazionale dei banchieri voluto dal PD e dagli imprenditori, ecco su questo magari Maccaoro potrebbe dire qualche cosa di fatto ha tagliato in maniera pesantissima i fondi alla regione, i trasferimenti per i trasporti il presidente Caldoro si sta battendo perché è un taglio anche iniquo che colpisce maggiormente il sud e peraltro rispetto a quello del nord. Quindi c'è una grave responsabilità del governo su questa vicenda del CSTP. C'è una responsabilità locale, non ci dimentichiamo che il comune di Salerno in testa ma tutti i comuni di centro-sinistra hanno consentito negli anni una struttura fallimentare gonfiata di personale, gonfiata di sprechi. Il presidente Santocchio è riuscito in questi anni a mettere mano pesantemente a questi sprechi. Immaginate, sono andate 100 persone in pensione e non sono state sostituite, pure le corse non sono diminuite e la dimostrazione del problema che c'era. Ma adesso c'è un'altra cosa gravissima. Il ministro Fornero, il ministro di Confindustria insieme a questo governo di banchieri e di imprenditori non ci riconosce i contratti di solidarietà per cui il CSTP non è in grado allo stato attuale di attuare quel piano di rilancio su cui devo dire i lavoratori avevano dato grande disponibilità per cambiare le cose, si erano anche disposti a fare sacrifici ma il governo non ci autorizza per cui veramente stanno condannando al falimento. Ecco io faccio un appello al sindaco di Salerno, al presidente di Confindustria Maccaoro, firmiamo insieme un documento e chiediamo che questo governo ha servito a Confindustria nazionale, ci dia una mano e dia una mano al sud. Vicenda sanità, si insedia il nuovo direttore generale del Ruggi? Beh io ovviamente è una scelta del presidente Caldoro, so che è una persona di fiducia del presidente Caldoro ma anche una persona che ha un curriculum di prim'ordine sia del mondo sanitario, ecco una scelta che finalmente viene al di fuori dalla politica ma un medico, un medico valente, primario da tanti anni, anche professoressa universitaria nel settore della medicina e dell'aerodologia, credo che sia una cosa positiva, sono convinto che lavorerà bene anche insieme agli altri medici, i capi di partimento del San Leonardo che sono sicuramente una grande realtà che ha fatto bene insieme ai Bianchi che notoriamente considero una persona valente e continuano a fare bene sicuramente con questa nuova guida che io lo riterrei non soltanto un normale avvicendamento ma anche un avvicendamento in vista del rilancio dell'università il centro-sinistra per colpa del governo Prodi con il ministro Mussi aveva tagliato i posti e ha rallentato quello che la Moratti e Storace avevano a suo tempo fatto perché non dimentichiamo che la facoltà di medicina l'ha data il governo Berlusconi con i ministri Moratti e il ministro Storace. Dopodiché il ministro Mussi l'ha bloccata, l'ha resa sfittica e non sono arrivati i finanziamenti e quindi ancora il percorso si deve perfezionare. Oggi grazie a Presidente Caldoro questo avverrà e con un manager che è anche un medico, un professore sicuramente si riuscirà a fare un lavoro ottimo.